Il 2018 per gli operatori del turismo culturale in Umbria è stato un anno positivo con risultati che sono stati superiori a quelli dell'anno precedente, in particolare nel comparto al Belghiero, dove il 43% delle imprese segnala un incremento delle presenze rispetto al 2017. Lo sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Perugia, Giorgio Mencaroni, in una nota dell'ente camerale. In media nel 2018 sono state occupate il 38% delle camere con un picco del 54% nei mesi centrali della stagione estiva e un minimo del 22% nel periodo gennaio-marzo, con tassi mediamente più elevati nelle strutture alberghiere. Tuttavia, nonostante l'incremento dei flussi, ricorda Mencaroni, non abbiamo registrato un miglioramento dei livelli di occupazione nelle diverse strutture ricettive, a dimostrazione che le imprese sono tuttora in una posizione di attesa per verificare se l'andamento delle loro performance si consoliderà o meno nel lungo periodo.